I cambiamenti climatici che negli ultimi tempi nel nostro paese hanno comportato prolungati periodi di caldo estremo esercitano un forte impatto, talvolta letale, sulla salute umana, al punto che in nove località del litorale abruzzese marchigiano, nell'estate del 2023, si sono registrati 242 decessi dovuti alle temperature roventi. E quanto emerge dal primo rapporto dell'osservatorio clima e salute attivato nell'ambito del progetto europeo Life Plus e i Green Hat, studio che ha preso in esame le città di Pescara, Ancona, Albadriatica, San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Giulianova, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi. In quasi tutti questi centri, nell'estate del 2023, sono stati rilevati superamenti della soglia dei 30 gradi per diverse settimane consecutive. Il caso più emblematico è quello di Pescara, dove nel mese di luglio 2023 si sono verificati 145 decessi. Un dato che supera di gran lunga la media di 121 decessi registrata nel quadriennio 2015-2018. In particolare, il 21 luglio la città ha vissuto una giornata con temperature che hanno toccato i 37 gradi, condizione estremamente critica, che ha coinciso con 10 decessi registrati tra il giorno stesso e quello successivo e con un notevole incremento degli accessi al pronto soccorso. I più colpiti, naturalmente, sono gli anziani e le persone alle prese con patologie croniche, malattie respiratorie e problemi cardiovascolari, particolarmente vulnerabili agli sbalzi termici estremi. Situazioni critiche, soprattutto nel mese di luglio, si sono registrate anche ad Alba Adriatica, dove le temperature massime hanno superato i 30 gradi per oltre 20 giorni consecutivi. In questo mese, non a caso, la città ha registrato 18 decessi, il doppio rispetto alla media storica degli anni 2015-2018. Sempre a luglio si sono registrati 20 decessi a Martinsicuro contro una media storica di 10. Ad agosto si è invece registrata un'impennata dei decessi a Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Pineto, dove sono morte rispettivamente 30, 26 e 14 persone. Tutti numeri ampiamente al di sopra della media storica del periodo, così come i 19 decessi registrati nel mese di giugno a Silvi, quando le temperature hanno sfiorato i 35 gradi ed è stata quasi doppiata la media storica del periodo.